Tele spettatori di Sella TV, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi mercoledì 15 novembre 2023. I titoli con le principali notizie del giorno. Colognola, 77enne morì cadendo dal balcone, Colf arrestata per omicidio. La presidente di Arpa Lombardia, sfiduciata dal Consiglio regionale, disse che il cambiamento climatico non è colpa dell'uomo. Treviglio, gli studenti dell'Archimede ancora al freddo, danni alle tubazioni come l'anno scorso. La Lega inaugura la nuova sede cittadina e si prepara per le elezioni 2024. Pezzotta è un buon nome. L'Atalanta si ferma per le nazionali, sette convocati e infermeria piena a Zingonia. In apertura la cronaca perché questa mattina la squadra mobile della questura di Bergamo ha messo a segno un arresto che rappresenta una grande svolta nelle indagini per la morte di una 77enne a Colognola. Svolta nelle indagini sulla morte di Rosanna Haber, la pensionata 77enne che il 22 aprile 2022 morì precipitando dal balcone della propria casa di via Einstein nel cuore di Colognola. La squadra mobile della questura di Bergamo ha effettuato questa mattina l'arresto della badante di Rosanna, una donna ucraina residente in provincia di Bergamo che è accusata di indebito utilizzo di carta bancomat e omicidio nei confronti proprio della 77enne. Inizialmente gli inquirenti avevano catalogato l'episodio come suicidio ma non tutti i tasselli delle indagini si inserivano in modo così preciso da essere sicuri della conclusione e così le indagini sono proseguite in maniera più fitta e approfondita anche perché contestualmente i parenti della donna avevano segnalato il furto del bancomat e un ammanco di soldi sul conto corrente della donna. A questo si aggiunsero le testimonianze di alcuni vicini di casa i quali avevano raccontato di aver sentito un litigio prima della caduta. Di qui gli interrogatori alla donna ucraina le cui risposte erano ricche di contraddizioni. Per questo motivo nel settembre del 2022 venne iscrita nel registro degli indagati. Le attività tecniche e scientifiche hanno poi appurato con certezza che il furto e i prelievi effettuati con il bancomat di Rosanna Haber erano stati effettuati proprio dalla donna ucraina che aveva poi speso i soldi nelle macchinette dei bar. L'ipotesi suicidio intanto si faceva sempre più fragile. Nessun intento autolesionista era stato rinvenuto sulla vittima che anzi pochi giorni prima del decesso aveva anche prenotato una vacanza. Indizi che hanno convinto la Procura della Repubblica a dare il via libera all'arresto. E teniamo aperta la pagina di Cronaca perché Mohamed Lamine Saidà in arte Simba Larou 21enne trapper italo-tunesino continua a collezionare condanne. Dopo i quattro anni di carcere rimediati per la faida tra due bande rivali e ripetuti episodi di violenza appena un mese fa ecco una nuova sentenza. Sempre dalla Procura di Milano Simba Larou è stato condannato ad altri sei anni e quattro mesi con reto abbreviato per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 vicino a Corso Como, zona della Movida in cui rimasero feriti due senegalesi. Il processo che vede invece Larou parte l'ESA per la guata ed il tentato omicidio nella notte del 16 giugno 2022 a Treviolo vedrà il Viel 10 gennaio nella nostra città. Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera a Bergamo in città, siamo in Borgo Santa Caterina dove appunto i Vigili del Fuoco hanno dovuto salvare un uomo caduto nel Morla. I motivi sono ancora tutti da accertare ma l'uomo non ha riportato ferite gravi e è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Tutto è accaduto poco dopo le 22.30 in via Gasparino da Barzizza. I soccorsi sono scattati poco dopo e sul posto sono giunti appunto i Vigili del Fuoco con il nucleo speleoalpino fluviale, la Polizia di Stato e i sanitari delle 118 con ambulanza e automedica. Il ferito è stato quindi messo in barella e portato fuori dal canale a livello strada dove ha poi ricevuto le cure del personale medico. Importante novità per quanto riguarda lo sciopero di venerdì 17 novembre per i trasporti, gli addetti ai trasporti di ATB e TEB, almeno per quanto riguarda la nostra città, incroceranno le braccia solo dalle 9.15 alle 12.30, poco meno di 4 ore dunque rispetto alle 8 ore annunciate nei giorni scorsi. Proprio dopo l'annuncio appunto del sciopero che inizialmente sarebbe dovuto durare 8 ore da parte di CGL e Will, sono partite le trattative con Matteo Salvini in primis che aveva condannato questa decisione in una giornata di lavoro. Ebbene oggi Maurizio Landini in conferenza stampa con il segretario generale della Will Bombardieri ha dato l'annuncio. 4 ore di sciopero invece che 8. In consiglio regionale adesso, dove è stata votata la sfiducia per la presidente di Arpa Lombardia, Rea, di aver espresso alcune considerazioni sul cambiamento climatico che non sono piaciute. Luca Cavadini Sorpresa ma non troppo, il consiglio regionale Lombardo ha approvato con voto segreto una mozione che di fatto sfiducia la manager Lucia Lopalo da presidente di Arpa Lombardia dopo la sua infelice uscita secondo cui il cambiamento climatico non sarebbe influenzato dall'uomo. Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo, no, parlando di Arpa Lombardia o di regione Lombardia perché poi è necessario sottolineare che Arpa è il braccio armato di regione Lombardia. L'Aula ha approvato la sfiducia con 37 voti favorevoli e 36 contrari con almeno 8 franchi tiratori. Si è stupito questo voto 37 a 36 dove appunto alcuni consiglieri di maggioranza hanno votato insieme ai 29 consiglieri di opposizione che vuol dire che alcune persone nella maggioranza hanno ritenuto non felici ma anche molto inopportune le parole della nuova presidente di Arpa. Il testo della mozione condiviso da tutte le opposizioni invita tra l'altro la Giunta a valutare di sollevare la presidente dalla sua attuale carica in quanto non adeguata a dirigere una struttura di controllo dell'ambiente a garanzia della popolazione lombarda. Una che ricopre un ruolo così importante che a capo di un'azienda regionale pubblica che deve proteggere l'ambiente fa delle dichiarazioni inopportune, non felici, poco caute, ha detta anche di alcuni membri della maggioranza. Dopo le incaute affermazioni dell'Opalo, scettica anche sulla cosiddetta ecoansia giovanile, lo stesso Attilio Fontana, governatore della regione, aveva preso le distanze affermando che fossero a titolo personale. Da Fratelli d'Italia, partito da appartenenza della manager, una difesa d'ufficio, dalla Lega un auspicio. Chi ricopre un certo ruolo dovrebbe avere più cautela nell'esternare il suo pensiero. Andiamo a Treviglio adesso, dove gli studenti dell'Istituto Scolastico Archimede, anche in questo inizio di stagione fredda, sono al freddo. Le aule non vengono riscaldate per problemi tecnici ed era già accaduto l'anno scorso. Sharon Bordogne. L'anno scorso all'Archimede di Treviglio si era rotta la caldaglia. 80.000 euro e un anno dopo è il turno di una tubatura che ha provocato un grosso calo di pressione nei caloriferi, lasciando una parte delle aule al freddo. Ieri la protesta di una parte degli studenti. In una trentina hanno manifestato fuori dalla scuola. Il 50% è rimasto a casa. L'intervento dei tecnici della provincia sul posto è stato immediato, ma per ora non ancora risolutivo. L'attenzione è massima. La provincia di Bergamo da subito ha inviato i tecnici per la ricerca di questa tubazione, così come l'anno scorso da subito ha sostituito con un investimento di 80.000 euro, sempre all'Istituto Archimede, le caldraie. Purtroppo, come è capitato quest'anno, le tubature sono retuste, molte volte sono interrate e non è così di facile soluzione il ripristino e la riparazione. Ad ogni modo, per garantire la giusta gradazione all'interno degli spazi scolastici, la provincia di Bergamo ha dato l'incarico ai tecnici di alzare il più possibile le temperature e far funzionare 24 ore su 24 l'impianto finché non verrà trovata la perdita. Nel triennio, la provincia di Bergamo ha finanziato progetti per l'edilizia scolastica dal valore di 50 milioni di euro, ma per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico di strutture ormai vetuste servirebbero almeno 300 milioni. E così la scuola continua a fare acqua da tutte le parti e le risorse della provincia sono poco più di una goccia nel mare. Io stesso mi schiero dalla parte degli studenti perché non è possibile avere situazioni di questo tipo, soprattutto quando non è possibile programmare le giuste manutenzioni con i fondi adeguati. Ma voglio anche riportare questo cartello che è stato così affisso all'interno degli istituti dove sono finiti i fondi per la scuola. Io stesso pongo questa domanda agli enti sovra provinciali affinché ci sia una svolta per quanto riguarda l'informa della provincia vengono dati gli giusti stanziamenti per rispondere alle giuste e corrette necessità del territorio. La corsa alle comunali in città che prosegue si scalda con una campagna elettorale che non è ancora iniziata, ma insomma le trattative stanno entrando nel vivo. La volta della Lega che nei giorni scorsi ha anche inaugurato la propria sede cittadina. Da sempre noi ci riteniamo portatori delle stanze, delle periferie. Abbiamo scelto proprio di ripartire da qui per portare insieme un nuovo messaggio alla cittadinanza e di presenza sul territorio. Con questo intento la Lega Cittadina ha scelto Grumello al Piano per istituire la nuova sede precedentemente attiva a Redona insieme a quella provinciale. Una scelta quella dei militanti che non si può che leggere anche in chiave elezioni 2024. La partita si sta scaldando anche se dalle parti centrodestra le trattative per scegliere il candidato che sfiderà Elena Carnevali, punta del PD, proseguono. E forse lo faranno fino a fine mese. Poco male, secondo i leghisti, anche perché il nome avanzato per ultimo dalla coalizione, quello di Andrea Pezzotta, piace. Respinta al mittente, le accuse di scarso interesse nei confronti della corsa a Palazzo Frizioni e di giochi di partito troppo fuori dalle logiche provinciali. La Lega ha messo sul tavolo i nomi di Rovetta e Ribolla, ma la scelta arriverà comunque dal tavolo regionale. Noi sul piatto abbiamo messo i nostri candidati e sono candidati assolutamente valido e di tutto rispetto. A livello regionale poi verranno fatte delle riunioni in cui ovviamente prevarrà il profilo migliore solo ed esclusivamente nell'interesse di Bergamo. Il segretario cittadino si dice soddisfatto per il lavoro fatto, per il materiale prodotto e per la predisposizione al confronto. Ma è chiaro che ora l'obiettivo è passare dall'altra parte. È allora che Bergamo si immagina la Lega per il quinquennio 2024-2029? Noi saremo l'amministrazione di tutti i cittadini che giorno dopo giorno, anche nelle piccole cose, si fa vedere il proprio contributo alla città. In Consiglio Comunale tra maggioranza e opposizione sono state tante le polemiche e gli scontri sulla questione Palacreberg e Palazzetto. Tutto è andato come la Giunta aveva progettato e le ruspe sono arrivate al Palacreberg per il suo abbattimento. Silvia Valenti. Il 26 maggio aveva chiuso definitivamente i battenti come teatro con l'ultimo spettacolo della sua storia. Nei mesi si sono alternate le forti critiche da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale e azioni anche eclatanti come lo sciopero della fame organizzato dalla presidente dell'associazione Mordi la vita, Orio Zaffanella, per salvarlo. Ma è arrivato davvero il momento di dire addio al Palacreberg, per vent'anni sede di concerti, musical, commedie e cabaret. Sono infatti entrate in azione le ruspe per l'abbattimento dell'edificio, che lascerà spazio al nuovo Palazzetto dello Sport. Posticipati di oltre tre mesi rispetto al cronoprogramma inizialmente stabilito dalla Comune, che prevedeva l'inizio dello smontaggio già nel mese di luglio e il termine a novembre, sono partiti lunedì i lavori sulla struttura esterna, al termine della rimozione degli arredi e la messa all'asta dei 1.500 seggiolini della sala. La demolizione costerà 950 mila euro all'amministrazione comunale, mentre la spesa per il nuovo Palazzetto sarà divisa tra pubblico con 5 milioni e mezzo di euro e privato con altri 8 milioni di euro. Costi che nei mesi sono lievitati da 10 a 13 milioni complessivi rispetto alle previsioni, costringendo Palazzo Frizzoni ad un esborso ulteriore di 2 milioni e mezzo per mantenere il progetto che ad oggi rischia di vedere la luce con sensibile ritardo. Cambiamo argomento, bella notizia per la comunità scientifica bergamasca perché il professor Giuseppe Remuzzi, bergamasco, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, è stato inserito nel report Clarivate 2023 che comprende i ricercatori più citati al mondo per le pubblicazioni a carattere scientifico. Sono in totale 115 ricercatori italiani che rientrano nel report annuale, tra cui appunto il nostro concittadino. Il numero di citazioni ci affianca anche una valutazione qualitativa degli esperti del report. A livello mondiale il report stesso ha nominato in totale 6.849 ricercatori provenienti da università, istituti o enti da 67 paesi diversi del mondo. L'Italia sale quest'anno al decimo posto nella classifica con un contributo che arriva proprio anche dalla nostra città. Ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con gli spettacoli e lo sport. Apriamo la seconda parte del nostro notiziario a ritmo di rock. Il rock degli anni 70, venerdì 24 novembre, irrompe sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate. Il tour The Watchplace Genesis, che sta toccando le più importanti capitali europee e britanniche, fa tappa anche nella Bergamasca. Il suono delle chitarre acustiche che unisce tecnica ed energia proietta in un viaggio musicale Indietro nel Tempo, che celebra il cinquantesimo anniversario dell'iconico album Selling England by the Pound del 1973 dei Genesis e che includerà anche molti brani dell'album Foxtrot. Ciao a tutti, siamo The Watch, siamo in tournée in Europa e nel Regno Unito con il nostro nuovo spettacolo dedicato a Foxtrot e Selling England by the Pound e vi aspettiamo il 24 novembre al teatro Gavazzeni di Seriate. Ci vediamo presto. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e alla biglietteria del teatro Gavazzeni a Seriate. L'Atalanta adesso pausa per le nazionali Tempo, dunque per gli infortunati, i tanti infortunati di recuperare. Vediamo com'è la situazione a Zingonia con Luca Cavadini. La facoltà di medicina e in particolare il reparto di ortopedia potrebbero trasferirsi a Zingonia nella sede dell'Atalanta. Ironia a parte, sono ben sette i giocatori infortunati che stanno seguendo lavori personalizzati e terapie. Per alcuni moderato ottimismo, per altri ancora pazienza. La pausa per gli impegni delle nazionali, dove Jim City, Pasalic, Scamacca, Deron, Coopminers, Musso e Lukman giocheranno nei prossimi giorni, consentirà allo staff medico di valutare le condizioni degli Atalantini ed insieme al tecnico l'opportunità di rischiare o meno la presenza in campo. Dieci giorni fino al 25 novembre, quando a Gewis arriveranno i campioni d'Italia con il nuovo allenatore Mazzarri. A parte Toure, lungo de gente, che rivedrà il campo solo nel nuovo anno, per tutti gli altri ci sono discrete possibilità che possono essere disponibili. De Ketteler, Scalvini, Olm, Ruggeri, Palomino, Colasinac e lo squalificato Toloi hanno tutti rimediato infortuni di media entità, anche se soprattutto quelli muscolari vanno trattati con estrema cautela. Sul campo di allenamento, a disposizione di mister Gasperini, oggi hanno lavorato in gruppo il centrocampista Adopo, gli esterni Zortea, Zappacosta, Atebor e Baccher, i portieri Carnesecchi e Rossi, il centrocampista Goleador Ederson e gli attaccanti Miranciuk e Muriel. Il calcio giocato si ferma, mentre il cantiere per la costruzione della nuova curva sud no. Viaggia spedito, come possiamo vedere dalle immagini, lo scheletro è già ben visibile e anzi, si intravedono già i gradoni che caratterizzeranno il settore. Curva sud che sarà di fatto gemella della nord, culla del tifo caldo atalantino ormai inaugurata diverso tempo fa. La curva sud sarà pronta per la stagione 2024-2025 e porterà la capenza dello stadio a 25.000 posti. L'ultimo settore che manca per completare quella che sarà la nuova e definitiva casa dell'Atalanta del futuro. Dal calcio allo sci, la campionessa bergamasca Sofia Goggia che compie oggi 31 anni. Gli auguri da parte di tutta la redazione di Seila TV, una campionessa di Astino che sta vivendo un momento personale molto particolare. Oltre al compleanno, nei giorni scorsi è diventata anche zia grazie alla nascita della primogenita del fratello Tommaso. Allora sentiamo come ha ringraziato oggi a mezzo social con la sua solita brillantezza e cadenza bergamasca i propri fan appunto attraverso i propri canali. Per gli auguri siete stati in tantissimi. Sodretta di Enta e Giappuame che in bergamasco significa inizio di invecchiare anch'io. 31 giri attorno al sole. Iemi a poc ma iemi a tanci. Non sono né pochi né tanti. Però ho iniziato ad avere l'età della maresana come dice il Babi. Per chi non fosse di Bergamo specifichiamo la maresana e il colle dove vanno i pensionati a camminare il sabato e la domenica. Però è tre anni che lo conosco e tre anni che mi dice così a ogni compleanno. Quindi vabbè dai ci sta. E niente grazie ancora a tutti. Dal punto di vista agonistico invece Goggia tende di esordire nelle discipline veloci. Quella è lei più congeniale. Nel weekend in programma Cervigna una due giorni dedicata alla discesa libera ma nella località Cavallo tra l'Italia e la Svizzera il mattempo continua ad imperversare. E dopo aver impedito lo svolgimento delle gare maschili lo scorso weekend sta mettendo a repentaglio anche quelle femminili previste per sabato e domenica. Di fatto la prima prova cronometrata di oggi è stata annullata. Per cui si teme un annullamento dopo quello dell'anno scorso. E a proposito di previsioni meteo andiamo a vedere come sarà il tempo a Bergamo nelle prossime ore. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mano e Mazzaleni di Trebi Meteo. Come ci mostra l'animazione nelle mie spalle una nuova perturbazione nel corso dei prossimi giorni lambirà la nostra penisola portando però un peggioramento soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionale con piogge e venti forti e anche nevicate in appennino. Mentre abbiamo più nel dettaglio per quanto riguarda la Lombardia. Come ci mostra la grafica sarà un giovedì ancora all'insegna del bel tempo. Ampi spazi di cielo sereno, temperature ancora piacevoli nel corso del pomeriggio come notiamo. Punti ancora vicini ai 14-16 gradi. Mentre abbiamo più nel dettaglio per quanto riguarda la nostra provincia. Che qui giornate di giovedì che trascorrerà all'insegna del bel tempo. Cieli sereni e poco nuvolosi. Qualche annuvolamento in più solo a fine giornata. Temperature minime abbastanza contenute ma piacevoli nel pomeriggio con punti ancora vicini ai 14-15 gradi. Giornata di venerdì che vede il transito di qualche annuvolamento in più ma senza il rischio di precipitazioni e con temperature che sono stazionare un leggero rialzo entrano correnti da nord come notiamo. Valori che toccheranno anche i 16-17 gradi. Per quanto riguarda il fine settimana anche questo trascorrerà ancora all'insegna del bel tempo. Cieli sereni o poco nuvolosi ma l'ingresso di correnti da nord porterà aria un pochino più fresca come notiamo massime che scenderanno con valori che non andranno oltre gli 11-13 gradi. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto, non ci sono notizie dell'ultimo minuto. Io mi fermo qui e vi mando all'appuntamento con l'informazione per domani alle 19.15.